Radio Popolare Roma, il vostro slogan più riuscito. Mettetevi in onda. Cinque secondi. 89, 92, 91, 45, spot at radiopopolareloma.it 103, 3, Radio Popolare Roma. Home rock. The Surlo, the underground sound. E buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siete su Radio Popolare Roma e questi sono i 103.3. Siete alla Cantina del Rock, un'ora scarsa oggi purtroppo, ma comunque un'ora di grande rock and roll. Vi ricordo 393-899-2913 è il numero per gli sms che potete mandarci. La Cantina del Rock è la pagina Facebook, così come Wolfman Bob, su cui potete scriverci e farci sapere un po' come vanno le cose. La Cantina del Rock.tk è il sito archivio con tutte le puntate precedenti. Ci ascoltate dappertutto, oltre che a Roma e nella zona cittadina, anche in streaming all'indirizzo www.radiopopolareroma.it. Comincia una puntata della Cantina del Rock, ma c'è stato il mercato di riparazione, come succede per le squadre di calcio. E noi abbiamo comprato il nostro attaccante che ancora ci mancava, è Damiano. Ciao Damiano. Ciao Bob, ciao a tutti quanti. E Damiano, ci fai accompagnia per questo finale di stagione? Sì, speriamo tu abbia puntato veramente sul cavallo non perdente. Tu che ne dici la salvezza? Come la vedi? Ce la possiamo fare? Ma vedremo, sai, dovremo giocare bene, dipendere dai nostri avversari e bla bla. Grazie a tutti.